il regno delle due ruote ma qualche volta è anche quattro ruote soprattutto quando si tratta di situazioni custom e ne parliamo con Emanuele Minerva che proprio il responsabile che cos'è Portoricano. Portoricano Vuoto è un car club di macchine americane che sta qui a Roma con cui insieme a Motodeis abbiamo fatto questa collaborazione come primo anno dove loro praticamente gestiscono tutta l'area palco insieme a noi di Fiera Roma di Motodeis e col quale abbiamo fatto appunto questa questa bella esperienza nel primo anno di questa esperienza con i ragazzi e devo dire ottimamente riuscito almeno fino adesso e questa sera ci hanno dato una buona dimostrazione avendo loro ospite proprio personale il Adriano Pappalardo che c'era fino adesso appunto deliziato con tre canzoni. Noi siamo molto contenti di questa di questa esperienza con Portoricano appunto che è questo car club di macchine americane bellissime uniche che appunto stanno sul territorio di Roma ma non solo anche del territorio centro sud Italia e è un'esperienza che ripeteremo sicuramente con loro e che vorremmo portare avanti come forma di collaborazione. Che dire siamo tutti contenti di questa cosa qui. Speriamo di replicarla già dal prossimo anno con un risultato ancora più bello. Portoricano un ambiente antico che piace anche ai giovani. Manuela tu come vedi questo ambiente questi appassionati queste auto? Beh diciamo che le cose vintage sono sempre comunque le migliori e oltretutto come macchine sono meglio quelle di all'epoca che quelle di adesso assolutamente sia come design che come stile è tutto.